ciao a tutti benvenuti nel canale in questo video vi mostrerò come completare questa sfida segreta in fortnite di diciamo spostarvi per la mappa a bordo di uno squalo o meglio a bordo trascinati da uno squalo con la canna da pesca e potete anche saltare andare sulla terra ferro ma insomma è veramente fantastico per fare questa sfida avrete bisogno di una canna da pesca prima di tutto non è facile già vi anticipo che non è facile si tratta di fortuna quello che dovete fare praticamente con una canna da pesca avvicinarvi in prossimità di uno squalo e lanciare la canna da pesca vicino allo squalo in modo che lui abbocchi e ci salterete automaticamente sopra dove trovare uno squalo sia a sabbie sudate sia vicino alla fattoria frenetica un po' ovunque diciamo dove ci sono zone ricche d'acqua praticamente quasi tutta la mappa troverete almeno uno squalo io l'ho trovato sia vicino alla fattoria sia vicino a sabbie sudate ed altre località ma se volete andare sul sicuro che poi c'è anche una sfida andate a sabbie sudate ora come fare questa sfida se riesco a scollarmici di dosso vi faccio vedere una volta che voi avete la canna da pesca vi anticipo che non è facile dovete tirare la canna da pesca in mare e quindi attendere che lo squalo abbocchi dopodiché tirare la lenza nel momento che lo squalo diciamo si avvicina a voi insomma non è facile vi ho anticipato che non è facile alcuni dicono che basta saltare sullo squalo ma è assolutamente falso perché se saltate sullo squalo vi danneggiate io ci provo di nuovo non mi capita alla prima volta però diciamo così si fa praticamente avrete bisogno ecco come avete visto di una canna da pesca tirate la canna da pesca nell'acqua e al momento in cui lo squalo sta per abboccare tirate sopra la lenza che va bene e 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 Grazie a tutti.